L'effetto Ferragnes, tutti voi sapete cosa intendo dire con l'effetto Ferragnes, l'effetto fatto dai 4 milioni e mezzo, quasi 5 milioni di euro raccolti nel giro di una settimana durante il Covid. La disintermediazione però non è questo, non è che disintermediazione vuol dire digitale, digitale è uno dei fattori della disintermediazione, queste sono alcune delle piattaforme che ci sono in Italia, ce ne sono centinaia e centinaia del mondo, ma per disintermediazione non intendiamo semplicemente le piattaforme di crowdfunding o di personal fundraising, intendiamo il fatto che il mondo disintermediato ha una serie di aggiunte, di fattori aggiuntivi. Il numero uno, la disintermediazione è aumentata dal senso di fiducia e sfiducia che c'è nel mondo, c'è una necessità di prossimità, ti voglio vicino, voglio vedere quello che stai facendo, voglio capire se te stai facendo veramente quello che mi è vicino, c'è una volontà di controllo della donazione che sta crescendo, ho bisogno di capire immediatamente che cosa sta succedendo, di agire, di fare qualcosa. Poi c'è un tema di digitale, il digitale è sicuramente più efficiente e quindi la disintermediazione è facilitata dal digitale, il digitale è sempre aperto, una qualunque sede nostra è aperta 8 ore, 6 ore, 4 ore, 10 ore al giorno, certamente non 24 ore al giorno per 7 giorni, il digitale è semplice, il digitale ha un personal touch, ha un tocco personale, quindi in un qualche modo il mondo è disintermediato anche per questi motivi. Oggi perché cosa vuoi raccogliere fondi? Voglio raccogliere fondi per un'organizzazione non profite. Questo è il modello classico, domani succede che esiste oltre alla mia organizzazione non profite anche la mia causa, la mia causa, la mia causa, la mia causa, la mia causa. Il crowdfunding da questo punto di vista è impressionante perché un conto sono le piattaforme di fundraising e poi lo vedremo, un conto sono le piattaforme di crowdfunding che possono, come abbiamo visto anche sui giornali, raccogliere per tante piccole cause personalizzate. Questo era il modello con intermediario, guardate com'era semplice la vita, 6 donatori, 4 progetti, è un esempio per capirci. Quanti sono gli scambi possibili? Sono 10, 6 più 4. Questo è il modello senza intermediazione. 6 donatori, 4 progetti, quanti sono gli scambi possibili? 24. La realtà è molto più complessa. Prima c'erano solamente 10 scambi possibili, oggi 24. Moltiplicate per n, 100 scambi, 240, 1000 scambi, 2400 e così via. E poi ho raccontato soltanto 4 cause, ma potrebbero benissimo essere 40, 400, 4000 cause. Senza l'intermediario la realtà è più complessa. Cos'è il fundraising? Tutti noi lo sappiamo. Abbiamo sempre detto che il fundraising alla fine sono 3P. Una persona che chiede, che è il fundraiser, che siamo noi. Una persona che dona, che è il donatore, la donatrice, che decide di impegnarsi. E una persona che riceve, un beneficiario, qualcuno che riceve dall'impegno di un fundraiser e di un donatore, che insieme aiutano un'altra persona. Le 3P. Chi era la persona che chiedeva? Qualcuno di noi, un fundraiser. Qualcuno che, ne ho messe 5 delle competenze, sicuramente schillato, è formato, è competente, è professionista, è etico. È quello che volete voi. Però ne ha tante delle caratteristiche tipiche di un fundraiser. Non si sa di preciso chi possa essere quello che in un mondo disintermediato sta facendo la richiesta. Ora, tutti noi sappiamo che fa molto più confusione un albero che cade di una foresta che cresce. Però l'albero che cade dà un certo fastidio al nostro mondo. Quindi in un qualche modo c'è un tema di disintermediazione che può essere una minaccia, può essere un'opportunità. Questo era il vecchio modello su cui noi eravamo abituati. L'organizzazione non profit intermediario tra il donatore, la donatrice e la causa, il progetto. Questo è il nuovo modello ed è molto semplificato perché in realtà il modello è anche più complesso. Intanto c'è un'enorme pressione sui risultati. Sempre di più la gente vuole vedere il risultato. Poi c'è un tema di corporate social responsibility, cioè le aziende vogliono entrare nel campo del sociale. E mettiamo queste due etichette là in alto. Vediamo cosa può esserci di utilità da queste due etichette che sono due trend molto forti negli individui e nelle aziende. Ma quello che sottolineo sono quei tre viola che ieri erano soltanto uno. Oggi ci sono le piattaforme di fundersi, ne ho citate due ma ne potrei citare tutte quelle che vi ho fatto vedere prima. Piattaforme dedicate alla raccolta fondi. Poi c'è un tema di crowdfunding, cioè il fatto che ci sono piattaforme che più o meno fanno le stesse cose, sono sempre raccolte fondi ma non nascevano direttamente per fare raccolta fondi. Magari nascono per raccogliere il capitale azionario o per fare altre iniziative di sostegno all'industria, agli start-up innovative e così via. Quindi c'è un tema di fundraising platforms, di crowdfunding e c'è anche un tema di fundraising derivante dal sociale. Tutti noi conosciamo il tema di Facebook fundraiser o di tante altre piattaforme. Amazon ha un suo modello di raccolta fondi che a volte lavora in collaborazione con le organizzazioni non profit, altre volte in modo autonomo. E guardate le linee, i cerchi azzuri. Ieri c'era soltanto l'organizzazione non profit. Oggi ci sono altre cause, gli enti pubblici, parleremo con Donor Choose, l'84% delle scuole americane pubbliche, l'84% fa raccolta fondi attraverso Donor Choose. La piattaforma dedicata alla raccolta fondi per le scuole pubbliche, per le scuole finanziate dallo Stato. E la terza, ne abbiamo parlato prima, le microcause. Effetto Ferragnes per noi è solamente un modo di dire. Ovviamente noi siamo stracontenti e nessuno critica il grande lavoro che hanno fatto i conigi Ferragnes o Ferragni, dipende un po' dall'idea e dal marchio.